Senza sapere né come né perché, la natura mi offriva la possibilità di vivere, di bere, di mangiare, di coprirmi. Potevo modificare la natura a mio piacimento. Potevo creare, costruire, e distruggere. Così arrivai ad un'ovvia conclusione. Ero Dio. Così arrivai ad un'ovvia conclusione. Non ero Dio. Anche questo doveva avere un senso. Osservavo. La natura è stata mia maestra. Osservavo gli accoppiamenti degli insetti. Allora pensai che poteva esserci anche l'essere che doveva accoppiarsi con me. La cercai per molto tempo. Girai in vano per giorni. G Alle nomi. Grazie a tutti.